Buongiorno ragazzi e ragazzi, benvenuti in nuovo video. Oggi presenteremo delle cose degli acquisti sfiziosi. Allora, prima presenta la sorella. Questa è la Cristina che si chiama Rosale, io sono Cristina e lei è mia sorella che si chiama Anna Maria. Vai Anna Maria. Questa è la legge. Si possono cambiare la faccina per la sedia. Continuo a non capire cosa sia dovuto per la tua occupazione. Se ho bisogno di più soldi, posso avere carattere dove ho risolto. Poi questo qua. Poi questo è un alzino. Ah, ma vorremmo venire per vedere. All'empoio? No, grazie, poi. No, grazie. No. Ecco c'è la sua cassetta. Che cosa hai dito a fare? Niente, niente, niente. E che grazie alla stanza. Poi questo è un portano. Un portano. Che ha? Ma sai, non c'è così. Poi questo è blu. Si costruisce, ma... Alla blu. Però io vi presento delle cose. queste gomme, che sono dei telefoni, che hanno la forma di un telefono, di Samsung. Cioè è rosa, bianco e rosa. Il prezzo è 90 centesimi. Aviamoli. Devo ancora aprire. ecco aperte allora la prima è questa qua rosa così ha tutte queste app e sembra proprio un telefono molto svizioso mi piace molto con questo tasto poi c'è questa acqua bianca con questo con tutte le acque sempre molto bella poi c'è sempre questa acqua rosa la mia preferita è quella rosa noi sono tre sono belle vi vedo in due commenti se sono belle poi c'è questa bortetta dentro c'è la pinigone questa qua mi piace molto a diverse faccine le facce vere poi a due facce questa qua questa qua ha questo bellissimo vestito i capelli sono veri così viola e così si può mettere varie facce alle treccine poi c'è questo questi letterini ci sono questi letterini per metterli sui capelli guardate c'è scritto qua dietro si mettele qua dietro sono belli poi poi c'è questa qua questo funghetto questo qua dietro la casa è dietro un fungo poi c'è questo piccolo elfo da piccola elfa che i capelli si tolgono a due facce diverse sai quanto rischio diverso le due no e questi capelli mettiamo questo per voi eccoci è molto piccola guardate è piccolina ok poi si mette questo qua dentro qua c'è scritto che si deve mettere questo qua qua vicino però non lo mettiamo questo qua vicino comunque e può essere una collanina no una collana così questo è un ciondolo è molto sfiziosa poi c'è questa spazzolina c'è questa spazzolina poi c'è questa coroncina che ce l'ho penata io però non è proprio la sua poi c'è questo bucle bucle che rappresenta questo qua questo indetto sono uscite separate queste due cose non è che sono uscite le due prime poi c'è questo specchietto questo qua questo fiorellino e poi questa borsetta io presento queste mollette che sono a forma di farfalla che sono la nostra ora le apro poi ci sono queste mollettine che costano 75 questa qui si è a forma di farfalla non è lenta poi c'è diversi colori il fiorellino è miglione guardate allora questa qui verde vedete poi c'è questa qui rosa molto carina ed è così e basta, ah no arancione, e questa qui invece è arancione, vedete, poi c'è questa qui che si è rossa, guardate, mettiamo tutto quanto, che costavano 500, sono dei codini, sono dei codini, potete vedere così, vedete come si è carino, con gli occhi chiusi, con un cuore in mano, e l'elastico, e poi sono tutti uguali, nel senso che ve li facciamo vedere, li mettiamo dentro, poi vi presento questo qua, che sembra un armadio di kitty, e con questi cassetti dentro, 3, 1, 2, 3, e comunque sono così, si aprono, si includono, si possiamo mettere i gioielli, tutto, e poi c'è questo temperino, di Anna Elsa, va a vedere la cucina, sta qui, è di Anna Elsa, già lo dico, una questioncina, che è una questioncina, quindi tu puoi, costa 1,40 euro, con l'ola, è un temperino, però, con il barattolino, e ci puoi mettere qualcosa dentro, anche questo qua, anche questo, questa coccinella, che è dentro, c'è la platina, c'è questo gemmino, che è giusto, questa ala, che è uno stampino, ci sono questi adesivi, la tarta dolina, il petto, il gran chiesto, e il pesciolino, questa qui per stendere la plastilina, facciamo vedere qualcosa, questa qui rossa, poi abbiamo comprato anche questo anellino, questo qua, che è la plastilina rossa, e poi c'è questa qua anche, e poi c'è questa qui, cucchia, poi c'è questo qui, vi do una mostro, una cosa, questa è questa qua rossa, e poi c'è questa qua verde, vedete cosa sta facendo? per un altro video vi farete la vedere, a passare il costo, vedete? aspettate? vedete? ed è venuto questo, eeeh, per tutta la nostra città, facciamo pure, infatti qua, ho fatto un cuoricino, la facciamo vedere, la facciamo vedere, aspetta, subito faccio tutte le altre cose, stiamo facendo un lavoretto, anche ora lo faccio, c'è questa qua arancione, poi c'è questa qua, arancione chiaro, poi c'è questa qua, poi c'è questa qua, gialla, poi c'è questa qua, viola, l'ultima, e questa qua viola, ok, signora, intanto, c'è la parola di questo, ecco, fa belle carotine, kawaii, diciamo, perché l'ho fatto, poco veloce, perché la prossima volta, vi farò, proprio in questo video, delle plastiline, avete capito? fatta io, questa qua, l'ho fatta io, lo so che è brutta, però, farò un video, proprio delle plastiline, della plastiline, che faccio queste cose, perciò, ora la faccio, proprio per far vedere, gli occhi neri, con la puntina nera, con la puntina bianca, e le guanciotte, sono rosa, la bocca è rossa, è tutta rossa, la carota, perché non c'era l'arancione, e poi, infatti, i capelli verdi, poi c'è questa qua, che l'ho fatta sempre io, con la boccia rosa, gli occhietti rosa, con l'ultimo rosa, gli occhietti neri, con il puntino rosa, ed è così, un altro video, la farò meglio per te, allo fare in cucina, facciamole vedere, tutte e due, così, voi li spolete, in tempo, per fare con me, vabbè, vabbè, ok, è questa, fine del video, spero che il video, vi sia piaciuto, se vi è piaciuto, mettete like, e iscrivetevi, sotto i commenti, mettete, mi, dite, se il video vi è piaciuto, commentate, e iscrivetevi, anche al canale, di mia cucina, che si chiama, Sara Santaniello, e c'è un gattino, che ha 7, che ho 8 iscritti, perché, no, perché ho 8, perché c'è 7 iscritti, perché c'è un gattino, 8 iscritti, comunque, se non tengo 8 iscritti, è un gattino, capito, kawaii, e iscrivetevi, anche al mio iscrivetevi, e commentate, ciao, al prossimo video, ciao,